In questa area, che è un area molto estesa, circa il doppio del territorio italiano proiettato in mare, 500.000 km quadrati, noi abbiamo la responsabilità di coordinare le operazioni di suo corso. Il fenomeno, come ha detto il Presidente della Repubblica, è di dimensioni epocalle. L'umanità, l'aspetto sanitario perché è fondamentale per fare un primo screening, per vedere se ci sono anche delle patologie particolari, e poi la sicurezza. C'è Arlipapa 301 da Circomano a Perusa, Arlipapa 301 avanti, mi dirigo sul punto. Per cui sappiamo come si chiama, da dove arriva, che tipo di bandiera batte, la lunghezza, la larghezza, abbiamo la destinazione dove deve andare. Sono condizioni di disperazione, la gente non fuggirebbe, chi lascerebbe la propria casa, i propri luoghi, la propria realtà dove è nato, dove è abituato a stare. Il veroakes l'infirmiere le loro, la famiglia, le loro dire un comecino di disperazione. Divenesto Il veroaje l'infirmiere le loro, l'infirmiere le loro, l'arrivie, chi smartman diwno.